46 vittorie su 46 gare, 12 volte sotto i 7.40, atleta capace di correre 12.81, eccolo qua, nella gara all'aperto e atleta capace di correre i 60 in 6.51, 8.17 di lungo, un super atleta, un super campione eh sì, e poi anche un atleta dallo stile veramente notevole, veloce, ma è veloce sugli ostacoli anche perché li passa in una maniera pressoché impeccabile, ne ho visto anche Andrew Pozzi 7.59 per lui quest'anno, un 7.43 di primato personale, uomo da semifinale sicuramente e questi anche Shusei Nomoto, 7.58 fatto quest'anno dall'atleta giapponese che in questa batteria sicuramente si candida per uno dei tre posti per andare alla semifinale pensa che ha preso Hassan sia Holloway che Pozzi che questa cara l'ha già vinta, è lui il campione il detentore del titolo a Birmingham e quindi deve arrivare tra i primi tre, due sono clienti molto difficili e il giapponese lo è altrettanto, Nomoto in sesta, Forza Hassan Forza Hassan nel 2018 per la prima volta il 7.66 che l'ha portato al quinto posto nelle liste italiane all time, della specialità eguagliato qualche settimana fa agli assoluti indora di Ancona telecamere naturalmente sul primatista del mondo via partita questa batteria, San Fofanà alle spalle di chi vola lì davanti e chiude forse con un quinto posto 7.42 per Grant Holloway, è già un grande tempo Stefano già in batteria, un grande tempo, aspettiamo l'ufficializzazione di questo risultato vediamo anche dal punto di vista cronometrico 7.40 addirittura Stefano, 7.40 per Grant Holloway che prosegue con la sua striscia vincente terzo miglior tempo dell'anno Stefano 47 prove senza mai perdere e Hassan è stato bene in gara per 30-40 metri poi nell'ultima parte si è un po' perso che invece è la sua forza vediamo Andrew Pozzi, 7.60 Shusei Nomoto, 7.66 in questo momento Fofanà con 7.73 dovrebbe essere l'ultimo tempo di ripescaggio andiamo a verificare eh sì, Fofanà eh ma ne manca ancora una sì sì, ne manca ancora qua il replay qui comincia a perdere terreno Fofanà perché prende un ostacolo prende anche questo eppure questo lo prende brutto quindi ecco perché ha perso velocità il quarto ostacolo l'ha preso pieno intanto riguardiamo la prova di Holloway che invece va via come un treno già si avventa sulla prima barriera e già qui guardate quanto anticipo attacca l'ostacolo rispetto a Pozzi che è il detentore del titolo grande agonismo eh comunque non si è concentrazione non si è risparmiato Holloway eh? questo 7.40 giusto nel finale si vede che si tranquillizza dopo l'ultimo ostacolo e lì non dietro lì Fofanà l'ha preso brutto peccato e adesso guardiamo quello che succederà nell'ultima batteria in questo momento è l'ultimo dei tempi di ripescaggio il 7.73 di Assan Fofanà significa che il quarto di questa della prossima batteria deve fare più di 7.73 vediamo e qui sulla carta sono i contratti che viaggiano ce ne sono ma questo è il repilogo dei risultati 7.73 con questo